Amici di Football is My Life, oltre il novantesimo, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi video sui pronostici delle partite del fine settimana. Allora, iniziamo subito. Bologna-Napoli. Bologna-Napoli, anticipo della ventitresima giornata di Serie A. Napoli riduce dal pareggio in casa contro il Palermo, che potrebbe bloccarlo un po' psicologicamente per qualche partita e potrebbe anche faticare sul campo del Bologna. Bologna, che quando gioca con Napoli fa spesso bene, in casa è un avversario difficile da affrontare, sta vivendo un buon momento di forma e quindi potrebbe esserci la sorpresa. Per questa partita io quindi direi gol. Entrambe le squadre segnano, perché Napoli secondo me segnerà, ma un gol il Bologna glielo rifila. Poi, Milan-Sampdoria. Vedo una gara bloccata tra un Milan che è reduce dalla sconfitta di Udine, dove ha perso delle pedine importanti come De Scilio, ma soprattutto Buonaventura, che starà fuori per diversi mesi. La Sampdoria in trasferta non è una squadra propriamente irresistibile. Il Milan è favorito e, secondo me, anche se a fatica e di misura, riuscirà a portare a casa la vittoria. Quindi Milan-Sampdoria 1 più Under 3,5. Poi, Empoli-Torino. Empoli-Torino vede di fronte l'Empoli che è reduce da una spazzolata presa a Crotone, dove ha perso per 4-1, anche se comunque rimane in una posizione tranquilla. È a più 8 dal terzo ultimo posto. Il Torino, invece, non vince da diverse giornate. Quattro giornate, se si considera solo la Serie A, cinque se si prende in considerazione anche la Coppa Italia. Io qua prevedo una vittoria del Torino, perché secondo me i Granata non possono continuare a non vincere per troppe partite. Cioè, secondo me, già quattro sono troppe le partite in cui non hanno vinto. Quindi, ad Empoli ci sarà il riscatto. Poi, Genoa-Sassuolo. Genoa-Sassuolo, una partita, secondo me, molto bella sulla carta, tra due squadre che segnano abbastanza, ma subiscono anche un buon numero di gol. Il Genoa ormai non vince da secoli, praticamente, e deve assolutamente tornare a fare i tre punti. Il fatto che giochi in casa può essere un punto in più, e per questo lo vedo favorito. Però, allo stesso tempo, non mi sorprenderei neanche se venisse fuori un pareggio, o perché no, anche una vittoria del Sassuolo. Per questa partita io, quindi, direi over due e mezzo, perché secondo me ci saranno almeno tre gol. Poi, Roma-Fiorentina. Roma-Fiorentina, super posticipo della ventitresima giornata di Serie A. Dico super posticipo perché si va addirittura a giocare di martedì, ma anche lunedì di martedì. Allora, vabbè, a parte che queste cose me stanno sui coglioni, virgola sulle scatole, virgola sulle palle, virgola in culo, una cosa che proprio non sopporto, decidete voi quale termine utilizzare. Però, a parte questo, Roma-Fiorentina è una partita che negli ultimi anni mi è sempre piaciuta molto. È una delle mie preferite di Serie A. Quando queste squadre si affrontano, si danno delle botte da far paura, vengono fuori belle partite con diversi gol. Anche la partita di martedì, secondo me, sarà una partita divertente con un buon numero di gol. E vedo favorita la Roma perché è più forte e perché giochi in casa. Però l'esito di questa partita potrebbe dipendere da Juve-Inter. Dico così perché se la Juve non dovesse vincere contro l'Inter, secondo me non vincerà neanche la Roma perché i giallorossi non sono in grado di cogliere i momenti favorevoli che le si propongono dinanzi agli occhi. Una frase un po' poetica, però il senso si capisce. E per andare sul sicuro direi gol più over 2,5 perché secondo me segneranno entrambe le squadre e ci saranno almeno tre gol. Poi, contest della giornata Juve-Inter. Dovete scrivere nei commenti il vostro pronostico di Juve-Inter. Va bene ragazzi, per oggi è tutto. Questi erano i pronostici del fine settimana. Ricapitoliamo. Bologna-Napoli gol, Milan-Sabdoria 1 più under 3,5 Empoli-Torino 2 Gena-Sassuolo over 2,5 Roma-Fiorentina gol più over 2,5 più contest di Juve-Inter. Fatemi un po' sapere nei commenti come la pensate. Lasciate un commento, lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi alle pagine Facebook. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!